Firenze avrà occasioni importanti proprio nei contesti di queste celebrazioni nazionali a partire dal 14 maggio quando rievocheremo il corteo che accompagnò le autorità e più di 170 con faloni italiani allo scoprimento della statua di Dante in Santa Croce. Canto a questo tre bellissime lexio magistralis a partire da quella del Cardinal Ravasi in Battistero poi le letture dantesche qui alla Società Dantesca in Nord San Michele con figure di profilo altissimo del dantismo nazionale e internazionale oltre che l'annuale ricordo della nascita avvenuta 750 anni fa nel centro di Firenze nei luoghi che oggi sono familiari con i toponimi legati a Dante Alighieri e che vivremo in Palazzo Vecchio.